Musica Oggi siamo con il movimento Orange Revolution con Raffaella Forgione, Daniele Galdiero e Antonella Maiorano. Siamo qui nella Sala Nugnes per presentare un progetto a mio dire molto bello e interessante per la nostra città che è il progetto Eco Green, riguarda il nostro lungomare, finalmente reso pedonale. Me ne diranno di tutti i colori, però secondo me Napoli c'è un lungomare bellissimo e sebbene organizzato con una serie di iniziative che magari proprio voi ci presenterete, secondo me acquista la nostra città. Raffaella? L'idea è proprio quella della riqualificazione del lungomare, però il progetto che presentiamo oggi non è un progetto urbanistico, è un progetto di partecipazione perché crediamo che il lungomare possa diventare veramente il lungomare più bello e più eco del mondo se ha qualcosa di speciale e diciamo che quest'anima speciale forse sono proprio i napoletani a poterla conferire ad un progetto. E quindi la nostra idea è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza nella progettazione del lungomare. Ovviamente crediamo che gli spazi verdi e la mobilità siano l'elemento principale, permanente, intorno al quale poi tutto il resto deve ruotare e che possano essere organizzati degli spazi architettonici all'insegno ovviamente di un'architettura temporanea, quindi molto trasparente, poco impattante dal punto di vista ambientale, visto che si tratta di una zona vincolata, dove però ci siano spazi liberi per i giovani, dove ci siano luoghi di incontro, dove semplicemente ci si possa fermare per leggere un libro, per incontrare un amico, per scambiare due chiacchiere, per prendere il sole, esatto. Quindi in questo modo la città può ritrovare un suo luogo significativo di incontro che attualmente non ha. E ovviamente crediamo che uno dei posti più belli di Napoli abbia il diritto di diventare anche uno dei posti più belli al mondo e quindi che faccia da richiamo anche per i turisti. Daniele, cosa rispondiamo a chi invece dice che questa chiusura del lungomare ha penalizzato i ristoratori, i venditori, insomma ha creato non poche difficoltà anche la viabilità? Tra poco vedremo una cosa molto interessante, che è una idea di trasformazione urbana nuova, in cui si coinvolgono le persone che abitano in città, per cui l'idea non è quella di tagliare fuori alcune categorie rispetto ad altre, ma quella dell'idea nuova della progettazione partecipata, nuova a Napoli, perché in realtà in altre parti del mondo, come anche vedremo, c'è già da tantissimo tempo, addirittura dagli anni 70, per cui stiamo portando in questa città finalmente un'idea democratica, di grande libertà, ma di grande partecipazione, per permettere ai napoletani di appropriarsi di uno spazio che in realtà è già loro, ma che in questo momento è completamente vuoto. Antonella, ancora una volta una proposta, una bella iniziativa di Revolution, Orange Revolution, che dentro trattiene anche la parola love, l'incontrare, quindi l'amore, l'amore per la civiltà, i cittadini e la propria città. Infatti, io penso che l'occasione che abbiamo tutti, ma che fondamentalmente hanno anche le istituzioni, è quella di raccogliere, mettere a sistema tutta una serie di iniziative che in questi mesi sono state portate avanti da associazioni le più diverse che hanno dimostrato, prima di tutto, l'amore per la loro città, e il desiderio di fare qualcosa di diverso, perché è quindi necessario che ci sia la capacità di cogliere questi desideri e questi bisogni, metterli in qualche modo a sistema e con l'aiuto dei professionisti, diciamo degli esperti nei vari campi, approfittare della capacità creativa che poi il napoletano ha. Ah, è proprio insidenza in sé, geneticamente ce l'ha. Quindi spero che questa sia la prima di una serie di incontri. Iniziative di incontri. La risposta del Comune, il nostro Comune? La risposta del Comune è stata positiva, perché ogni volta che abbiamo incontrato lo staff degli assessorati, e mi riferisco a quello della mobilità, dell'urbanistica e dei beni comuni, abbiamo incontrato una risposta positiva. Al punto che ci hanno detto che probabilmente questo progetto rientrerà come tema di una delle consulte, forse il 30 maggio. Naturalmente aspettiamo, diciamo, la conferma di questa data e siamo fiduciosi che, come dire, effettivamente l'amministrazione farà quello che ha detto dall'inizio, cioè iniziare questo percorso di democrazia partecipata, che probabilmente se inizia da un posto così importante come il lungomare, può fare anche da richiamo per altri luoghi della nostra città. Allora, io vi auguro in bocca al lupo, vi seguirò e magari poi aspettiamo notizie vostre di come è andata col Comune. Grazie, grazie a te.